Buonasera a tutti, il 19 di giugno sono le 16.30, in questi giorni orari un po' ballerini perché siamo in aula a Roma e quindi dipendo abbastanza dai lavori di aula, le commissioni che devono ancora partire, come vi ho raccontato ieri, che probabilmente partiranno giovedì, per cui anche purtroppo quest'oggi non sono in grado di dirvi esattamente che cosa succederà domani e quindi a che ora sarò in diretta Facebook, ma lo scriverò appunto su Facebook, su Twitter in modo tale da aggiornarvi in tempo reale. Vi racconterò anche un pochino quello che sta succedendo in aula in modo tale da tenervi aggiornati sui lavori parlamentari, spero che queste dirette possano servire anche a questo, ma in realtà volevo partire ancora una volta con la vicenda Rom e la vicenda di Salvini perché mi sembra di una gravità assoluta, naturalmente in questi giorni i giornali non hanno parlato d'altro, vi segnalo un fondo di Mario Calabresi, il direttore di Repubblica che ha addirittura scritto è morta la pietà in sostanza. Guardate, io penso che quelle frasi siano state molto molto gravi. Capisco benissimo quello che dice qualcuno e cioè per esempio il ministro Calenda che ha detto ma insomma l'ex ministro Calenda ha scritto su Twitter Salvini sta facendo questo, la spara sempre più grossa perché in questo modo questa modalità di comunicazione gli consente di dettare l'agenda politica e se noi lo rincorriamo in realtà gli facciamo un favore. Ora questo è vero, probabilmente è così, però io mi sono anche posto il problema di quale debba essere il nostro atteggiamento davanti a una persona che comunque non dimentichiamo il ministro degli interni. Il ministro degli interni, lo dicevamo anche ieri, è un po' l'arbitro, un po' quello che tiene le regole del gioco, è quello che ha la responsabilità di proteggere i cittadini e quindi quando addirittura il ministro degli interni dice cose che sono assolutamente esorbitanti, sono incredibili come quella per cui i rom italiani ce li dobbiamo tenere, è pieno di vignettisti in queste ore che sta scrivendo, ci sono un sacco di pirla italiani che ci dobbiamo tenere, anche questo è vero, però quando il ministro degli interni dice così io penso che ci sia un limite oltre il quale non si può tacere, non si può dire per una questione di convenienza elettorale sto zitto. Io penso che sia il caso di ribattere, è vero che si va sul suo terreno ma è vero anche che lui è il ministro degli interni e che ha delle responsabilità anche di rappresentanza dell'intero paese. Guardate, io ho l'impressione che in questa fase, poiché i sondaggi dicono alcune cose, poiché il sentimento popolare sembra essere molto favorevole alle panzane di Salvini, alle cose orribili che dice, alle cose orribili che fa, è quasi come se le persone di buon senso, le persone anche di buona educazione, le persone che cercano di guardare ai problemi nella loro complessità fossero quasi intimidite, come se dire che lasciare 629 migranti in mezzo al mare con i segni delle scudisciate sulla schiena, i piedi bruciati e non va bene, sembra quasi, come dire, osare di affermare il proprio buonsenso. Allora io voglio ribellare a questa logica. Io sinceramente penso che se per vincere le elezioni devo perdere la mia coscienza, devo perdere la mia anima, devo rinnegare i miei valori più profondi, quelli che fanno di me quello che sono, non ci sto, non è uno scambio ammissibile e penso che questo debba farlo ciascuno di noi. Bisogna, nonostante i tempi, nonostante la difficoltà, affermare la propria civiltà, affermare le proprie idee, affermare i propri valori. Questo è il ruolo del Partito Democratico sicuramente, ma guardate, io penso che sia il ruolo di ciascuno di noi individualmente preso. Se tra i colleghi in un capannello di colleghi a lavoro qualcuno dice che questo va bene o se la signora sull'autobus dice che questo va bene o all'ufficio postale, si può anche interloquire e dire che no, che non va bene. Lo abbiamo fatto fino al 4 di marzo o al 1 di giugno quando è giurato in governo, possiamo farlo anche adesso. Non è che l'Italia sia cambiata, non è che improvvisamente abbiamo attraversato un cambiamento epocale per cui si sono estinti i dinosauri che saremmo noi. L'Italia è sempre la stessa, è fatta anche di tanta gente per bene, di tanta gente che ha valori solidi e che ha del buon senso, della buona educazione se volete, anche se è fuori moda. Allora, niente mettere la testa sotto la sabbia, continuare ad affermare queste cose. Anche perché poi succedono cose come avete sentito, avete letto di questi due migranti che sono stati feriti a Caserta, ho letto sui giornali, sui siti, da gente che gli ha sparato con delle pistole ad aria compressa, quindi niente di gravissimo mi sembra, ma urlando Salvini Salvini. Allora, non possiamo lasciare il campo libero a queste persone e quindi le cose vanno affermate, per cui io mi scrivo sempre alla mozione di Liliana Segre. Io sto con lei, non sto con Matteo Salvini e così come Liliana Segre ha detto, ricordate la senatrice a vita reduce di Auschwitz, ha detto in aula, che lei farà di tutto perché la nostra democrazia non sia sporcata da leggi razziali nuovamente dopo il 38, perché di questo si tratta quando si fa una discriminazione per razza, è una legge razziale, sono le prime, diciamo l'annuncio di leggi razziali le prime dopo il 1938 in Italia, noi dobbiamo stare con la Segre e non avere paura di dire che Salvini ci repelle, lui e le sue idee. Così come voglio dire mi provo una repulsione profonda per quello che sta succedendo negli Stati Uniti, la separazione dei bambini dai propri genitori, ma io non riesco a crederci e guardate, sono cose inumane, non è che ci vuole una sensibilità particolarmente spiccata per capire che separare un bambino da una mamma magari dopo che hanno fatto una traversata lunghissima, a piedi, con mezzi di fortuna, è una cosa inconcepibile. Allora io con grande franchezza lo affermo, come sapete sono qui ogni giorno in diretta Facebook, la tecnologia ci dà voce, ci dà spazi, ho intenzione di occupare quegli spazi e di dire queste cose. Voi nel frattempo condividete, sempre pigiando la freccetta condividi che vedete sotto la mia faccia, in modo tale che probabilmente possiamo far arrivare queste idee, questi pensieri anche a più persone. Cosa dire? Il governo gialloverde è in retromarcia, non so come altro definirla, ne sono successi alcune in queste ore, ricordate ieri ci eravamo detti che il ministro della cultura voleva abrogare il bonus cultura per i ragazzi dei 18 anni, un bonus che serviva a aumentare il consumo culturale dei ragazzi e a sviluppare anche, secondo me, secondo noi, quel senso civico che la cultura dà. Abbiamo sentito ieri, avevo detto già ieri, dei dati che abbiamo 800.000 ragazzi che hanno usato questo bonus per 260 milioni di euro, quindi in libri, concerti, ma quindi il ministro Bonisoli aveva detto ma no, perché dargli dei soldi per la cultura? Rinunciino a un paio di scarpe, come fosse la stessa roba. E poi fortunatamente ha cambiato idea, anche perché il PD si è fortemente opposto a questa posizione, abbiamo messo una petizione online che ha raggiunto moltissime firme in poche ore. Il ministro Bonisoli ha innescato la retromarcia e pare che per i prossimi due anni il bonus cultura resterà. Prima buona notizia. Seconda marcia indietro è quella del ministro, super ministro e vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, che come sapete aveva detto che avrebbe assunto a tempo indeterminato tutti quanti i rider, cioè i ragazzi che portano in bicicletta il cibo per Foodora e altre aziende di quel genere. Il amministratore legato di Foodora Italia aveva detto stanti così le cose ci state praticamente mandando via dal paese, se dobbiamo utilizzare schemi come quello del rapporto a tempo indeterminato non collimano con le esigenze delle nostre aziende, quindi saremo costretti ad andarcene. Di Maio, che aveva appunto suonato la fanfara per questa, addirittura dicendo che avrebbe fatto un decreto legge per queste assunzioni, ha invitato al tavolo queste aziende di cosiddetta gig economy e ha fatto marcia indietro. Ha aperto un tavolo di consultazione, un tavolo che è un po' democristiano, diciamo così come tecnica e quindi ha fatto, ha innestato una marcia indietro. Ora, sia ben chiaro, io penso che il lavoro su questo tipo di lavoratori, quello che bisogna fare è importante e bisogna fare di tutto per evitare fenomeni di sfruttamento e bene ha fatto Di Maio a mettere, diciamo, sotto attenzione, ad attenzionare questo tipo di nuova economia e questi ruoli che sono appunto una sfida per il nostro tempo. Però attenzione a non utilizzare schemi passati a un mondo che sta cambiando moltissimo. Leggeva oggi che c'è un dato della Fondazione De Benedetti che dice che su 700.000 persone che lavorano nella gig economy sono forse soltanto 250.000 quelli che lo fanno a tempo permanente, quindi come attività principale. Quindi anche comprendere che se utilizziamo schemi antichi corriamo il rischio di perdere questi posti di lavoro o per esempio di aumentare il sommerso, il nero. Quindi il ministro Di Maio, diciamo, ha suonato la fanfara ma poi anche lui, come Bonisoli, ha dovuto innescare la marcia indietro. Altra marcia indietro, ma l'avevamo già visto in una intervista Corriere della Sera di una decina di giorni fa, quella del ministro Tria che oggi è venuto in aula per una risoluzione sul DEF e sostanzialmente ha detto cari ragazzi il debito deve scendere, non possiamo far saltare i conti pubblici e dobbiamo tenere la fiducia dei mercati perché altrimenti corriamo il rischio di andare gambe all'aria. Per cui la sua maggioranza naturalmente gli ha detto che bisogna evitare che scattino le clausole di salvaguardia, ma si tratta di 12-13 miliardi, gli ha detto che deve fare la flat tax, che deve fare il reddito di cittadinanza, ma lui ha messo le mani avanti dicendo attenzione prima di tutto i conti pubblici in ordine, cosa che non ci stupisce e tra l'altro ci chiediamo che se devono trovare questi 12-13 miliardi per le clausole di salvaguardia per evitare che scatti liva, con quali soldi si occuperanno di abrogare la fornero o di introdurre la flat tax. La sensazione come al solito è quella che Salvini spari le spari grosse proprio perché in questo modo può evitare di dover rendere il conto rispetto alle promesse che ha fatto in campagna elettorale. Tra l'altro i sondaggi elettorali gli vanno benissimo, vanno molto meno bene al Movimento 5 Stelle e quindi capisco che Salvini si avvii, prenda quella strada per evitare discorsi più scomodi. Ma comunque Tria mi sembra che anche lui rispetto al programma al cosiddetto contratto di governo abbia innescato una bellissima marcia indietro e abbia detto che non è pensabile far saltare i conti pubblici appunto per sostenere i redditi più bassi, per aumentare gli investimenti, per diminuire la pressione fiscale, per congelare le clausole di salvaguardia. Manca solo Babbo Natale e saremmo stati a posto. Ultimissima cosa che voglio rivedere, ah no forse ancora due molto brevemente, uno il ministro Bonafede, ministro della giustizia e il guardasigili della Repubblica è latitante, nel senso che il Partito Democratico gli ha chiesto di venire in aula a rendere conto dei suoi rapporti con il famoso, anzi famigerato avvocato Lanzalone, ricordate l'avvocato Mr. Wolf, quello che risolve i problemi, che la Raggi ha portato a Roma, anche questo non si capisce se sia stata la Raggi che l'ha voluto perché la Raggi dice che gliel'hanno presentato Lanzalone, i ministri Bonafede e Fraccaro. Mentre il ministro Bonafede dice che la decisione è stata della Raggi, la Raggi va in procura della Repubblica, onestà, 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 invece Bonafede non viene in aula a parlare e a raccontarci un po' come stanno le cose di questo avvocato che ha scritto lo statuto del Movimento 5 Stelle, che è stato premiato con la presidenza di Acea, l'utility romana che si occupa di energia e di acqua e quindi non viene, però va da Lili Gruber a dire che lui in aula non ci va, quindi non va in aula mentre invece va in televisione, questo è il rispetto delle istituzioni del Movimento 5 Stelle. Io vorrei sottolineare queste cose perché mi sembrano importanti. Ultimissima cosa davvero, oggi una notizia storica secondo me, è stata dirammata la notizia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha depennato la transessualità dall'elenco delle malattie mentali. È un passo molto importante perché l'introduzione e il mantenimento del punto del transessualismo all'interno delle malattie mentali era una delle fonti più forti di discriminazione nei confronti delle persone transessuali. Una cosa simile era successa nel 1990 perché è solo nel 90 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità elimina l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Infatti probabilmente molti di voi non sanno che il 17 maggio si celebra la giornata contro l'omofobia e la transfobia proprio perché l'Unione Europea ha utilizzato la giornata del 17 maggio che è il giorno in cui nel 90 l'Organizzazione Mondiale della Sanità depennò l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Quindi dal 90 al 2018 ci sono voluti 28 anni perché anche il transessualismo fosse eliminato da questo elenco vergognoso e quindi è un passo molto importante. Certamente non risolve tutto ma rende giustizia a tantissime persone che non sono per niente malattie mentali, che soffrono una discriminazione gravissima e che invece è giusto accompagnare in un percorso di recupero, di acquisizione della loro identità e devono poterlo fare con il supporto di tutti noi e nel massimo rispetto. Per cui anche in questi tempi molto bui, per fortuna l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha dato una piccola occasione per sorridere e io volevo assolutamente condividerla con voi. Giugno è il mese del Pride e quindi quale miglior notizia? Io mi fermo qui, come ho detto non ho ancora l'orario per la diretta Facebook di domani per via dei lavori parlamentari, ma appena l'avrò ve lo comunicherò e vi aspetto numerosissimi. Voi continuate a condividere, se non siete riusciti a vedere la diretta spero che possiate vedere questa registrazione indifferita, come si diceva un tempo, e per tutti ci vediamo domani. Ciao! Ciao!